Dopo la storica partita di andata con un Messi stellare, il Bayern Monaco ospita il Barcellona partendo da un parziale di meno tre. La montagna da scalare per Guardiola, allenatore della squadra tedesca anche per la prossima stagione, è altissima. Il Bayern è ancora orfana dei suoi giocatori milioni, Robben e Ribery. Si gioca alle 20.45 all'Allianz Stadium con diretta tv su Sky 1 Sport. Il cartellino di Lionel Messi vale ora la modica cifra di 120 milioni di euro. Per il campione argentino ha avviato a vincere la classifica a marcatori della Champions che ora conduce a 10 gol e probabilmente anche l'ennesimo pallone d'oro. Guardiola cercherà il tutto per tutto mandando all'arrembaggio i suoi, tuttavia in conferenza stampa ha tenuto a precisare che sarà durissima recuperare tre gol al suo Barça che di certo non può essere paragonato al Porto, contro cui nei quarti di finale il Bayern Monaco vinse dopo aver perso la gara di andata per 3-1. Vediamo insieme le formazioni in campo per il Bayern Monaco. Neuer in porta, Lahm, Benatia, Boateng, Bernat, Thiago, Alcantara, Xabi Alonso, Schweinsteiger, Müller, Lewandowski e Goetze. Mentre il Barcellona di Luis Enrique risponde con Ter Stegen, tra i pali Dani Alves, Piquet, Mascherano, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez e Neymar. Nella gara di andata al New Camp, finita 3-0 per il Barcellona, Lionel Messi ha realizzato due gol, mentre il brasiliano Neymar uno al 94esimo. Il tridente di attacco Messi, Neymar e Suarez, dentro il pistolero, cercherà anche questa sera di aumentare il bottino di gol del Barcellona. Nella classifica a cannonieri della Champions League 2014-2015, Messi è primo con 10 gol, seguito da CR7 e Cristiano Ronaldo a 9, con Tevez e Neymar a 7 gol. Seguono a 6 reti Benzema, Thomas Müller e Suarez. Le quote scommesse della SNAI indicano estrema parità per la partita in sé di ritorno tra Bayern, Monaco e Barcellona. Vittoria dei padroni di casa quotata a 2,55 come quella del Barça. Il pareggio invece è fissato a 3,7 volte la posta. La gara tra Real Madrid e Juventus di domani sera è quotata 1,65 alla vittoria dei Blancos. Quattro volte la posta il pareggio e la vittoria della Juve data a 5. In palio la finale di Champions League che si giocherà a Berlino il prossimo 6 giugno.